Partire dalle piccole cose per ridare decoro alla città e sensibilizzare i vibonesi in un'ottica di cittadinanza attiva. Sono questi alcuni dei motivi che hanno spinto il sindaco a emettere tre ordinanze sindacali in materia di rifiuti e rispetto dell'ambiente, che riguardano il divieto di utilizzo dei sacchi neri per conferire la spazzatura indifferenziata. La legge prevede quelli trasparenti in modo da individuare il tipo di materiale e vi raccolto. Il divieto di gettare per terra i piccoli rifiuti dal fazzolettino di carta, lo scontrino e soprattutto ai mozziconi di sigarette e le carte delle caramelle, per i quali i tempi di decomposizione possono arrivare anche a decine di anni. Ed infine il divieto di uso della plastica monouso, come piatti e posate di plastica sulle spiagge libere e nei parchi urbani. Ci sarà una rivoluzione per quanto riguarda i rifiuti. Intanto state preparando il nuovo bando per la raccolta sia indifferenziata che differenziata in città. In più voi oggi stesso firmerete per le isole ecologiche e ci saranno anche due ecocentri, uno a Vibomarina e uno a Vibocittà. Sì esatto, anche questo va nella direzione di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti perché evidentemente questi siti, questi posti dovranno migliorare il servizio di raccolta specialmente per le grandi utenze. e soprattutto mi piace ricordare il divieto dei sacchi neri e colgo l'occasione di questa emittente proprio per segnalare che saranno fatte anche delle sanzioni pure abbastanza pesanti perché questi sacchi neri vanno nella direzione di impedire il conferimento di grossi quantitativi di indifferenziato. Questo comporta da una parte un allineamento con le dinamiche europee perché Vibbo certamente deve essere un comune innanzitutto europeo ma soprattutto va nella direzione del contenimento della spesa perché maggiore è la quantità di indifferenziato, maggiore è la tariffa che noi siamo costretti a pagare e quindi maggiore è la tassa che graverà nelle tasche dei nostri cittadini per cui il messaggio è differenziate di più, differenziate bene, differenziate meglio perché pagherete di meno. Voi avete anche predisposto un programma di educazione ambientale che partirà da settembre? Sì esatto con l'assessore Bruni che si occupa di queste dinamiche abbiamo proprio predisposto questo programma nelle scuole per una sensibilizzazione dei ragazzi a partire già dalle scuole elementari e delle scuole medie ma anche negli istituti superiori perché purtroppo basti vedere il sito degli autobus se lei si fa una passeggiata si renderà conto che lì c'è di tutto cioè c'è un vilipendio del territorio davvero insopportabile per cui costruire una coscienza civica già nelle giovani generazioni, nelle nuove generazioni sarà un obiettivo di primaria importanza.